su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. Stefano Ciardi, buoni, 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 buoni. Ma chi muore nel Mediterraneo? Ha una politica diversa, ha una politica diversa dagli altri. Giù i microfoni in studio, giù i microfoni in studio. Allora, Stefano Ciardi, giù i microfoni in studio. Stefano Ciardi, Angelo Machiavello, qui stanno continuando a urlare, ma certo. Non vi sente più nessuno. Sono giù i microfoni. No, ma mi rompete i coglioni a me però. No, non si viene in termissione a rompere i coglioni. Te l'ho già detto un'altra volta. Potrebbe essere l'ultima. Mancano i vaccini, ma sul mercato, ma quello di sicuro, camperai meglio, anzi non vedendomi. Esatto, anch'io. Mancano i vaccini, ma sul mercato ci sono mediatori pronti a vendere milioni di fiale e tra poco uno di loro sarà tra qui in studio. Il servizio di Stefano Ciardi e Angelo Machiavello. Prego.